Eminenza, Papa Francesco inizierà il suo viaggio in Africa dal Kenya, dove in aprile 147 studenti furono uccisi da estremisti islamici, come i tantissimi giovani trucidati a Parigi. Rilancerà il suo messaggio di pace e dialogo per tutti i credenti? Sì, credo che il Papa non potrà non avere negli occhi e nel cuore queste immagini raccapriccianti di questi 147 studenti uccisi in Kenya e dei giovani, delle persone e soprattutto dei giovani trucidati a Parigi. Sarà questa un'occasione appunto per rinnovare questo appello che il Papa continuamente fa, il Papa in prima linea in questo senso, agli appartenenti a tutte le religioni, a non usare il nome di Dio per giustificare la violenza. L'ha detto nell'Angelus, nel Post-Angelus di domenica scorsa, che fare questo è bestemmiare, quindi non è assolutamente rendere lode a Dio, ma offendere gravemente, in maniera gravissima, il nome di Dio e il suo amore per noi e Dio stesso. E poi appunto l'appello a fare delle religioni quello che le religioni sono e devono essere, cioè operatrici di bene, ecco, fattori di riconciliazione, di pace, di fraternità nel mondo d'oggi, in un mondo già lacerato da tanti conflitti di varia natura. E farlo insieme, ecco, questo è anche un altro punto mi pare importante, farlo insieme. Oggi le religioni devono trovare appunto il modo di lavorare insieme, di collaborare insieme appunto per aiutare l'umanità a diventare sempre più fraterna e solidale. E questo attraverso soprattutto il dialogo interreligioso. Mi pare che, ecco, saranno un po' questi i punti che il Papa continuerà a sottolineare e approfitterà per sottolineare anche in questa tappa della sua visita. Papa Francesco visiterà per la prima volta il continente africano che è considerato ancora periferia del pianeta. Sarà l'occasione per rilanciare il suo messaggio dell'enciclica Laudato Si e del discorso all'ONU sulla lotta contro l'esclusione economica e la difesa dell'ambiente naturale? Sì, certamente. Sappiamo come il Papa ha particolarmente a cuore questi temi. E come questi temi, che a fin dei conti, ecco, sono parte dell'insegnamento tradizionale della Chiesa, della dottrina sociale della Chiesa, almeno a partire da Leone XIII, ma poi applicati alle differenti situazioni che via via si sono presentate. Ecco, sappiamo che questi temi troveranno una particolare risonanza proprio nel continente africano, per quelle ragioni che lei diceva. E quindi ci sarà un forte messaggio in questo senso, nel senso cioè di lottare contro la povertà, contro l'esclusione, di assicurare a tutta la popolazione, ad ognuno dei suoi componenti, una vita degna. Ecco, una vita che rispetti la dignità di esseri umani e di figli di Dio delle popolazioni dell'Africa. E ci sarà anche, appunto, l'occasione di farlo, perché sappiamo, per esempio, che a Nairobi ci sono due organizzazioni delle Nazioni Unite che si interessano particolarmente di questi problemi, e cioè il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, l'UNEP, e quello per l'Habitat, l'ONU Habitat. E poi siamo anche alla vigilia di due evenimenti importanti, prima di tutto la conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici, che inizierà proprio in coincidenza con la fine del viaggio del Papa, e la decima conferenza ministeriale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che si terrà a Nairobi nei giorni seguenti alla visita del Papa. Quindi anche queste, diciamo, circostanze, ecco, vanno nel senso appunto di una ricerca di criteri etici per governare l'economia in maniera eco, in modo tale che i benefici di questa economia possano giungere a tutti e a ciascuno. Nella Repubblica Centroafricana il Papa aprirà la prima porta santa del Giubileo della Misericordia. Sarà un gesto per rilanciare il messaggio di pace per il Paese e per tutto il continente? Ne ha bisogno la Repubblica Centroafricana di pace e di misericordia, ed è un gesto molto bello quello che farà il Papa anticipando naturalmente l'apertura della porta santa per tutta la Chiesa, per la Chiesa Universale, l'8 dicembre nella Basilica di San Pietro. Sarà un gesto anche questo per manifestare misericordia, nel senso di manifestare vicinanza ad una popolazione duramente provata per una situazione endemica di povertà e di precarietà che si è aggravata appunto in ragione del recente conflitto, di questo conflitto che ancora perdura, di questo clima di violenza e di ostilità che ancora è presente nel Paese. Sarà oltre che una manifestazione di vicinanza, senza anche un incoraggiamento, un incoraggiamento a curare le ferite, un incoraggiamento a superare le divisioni in nome del rispetto e dell'accettazione reciproca, ecco, in maniera tale che i gruppi che ora si fronteggiano possano, diciamo, trovare le ragioni per lavorare insieme a beneficio del Paese, del bene comune del Paese. Ecco, questo sarà il grande messaggio, quindi un messaggio ancora una volta di dialogo, un messaggio di accettazione dell'altro, di comprensione delle sue ragioni, di collaborazione in vista di un bene superiore. E credo che questo messaggio di incoraggiamento il Papa lo rivolgerà anche a tutti coloro che cercano di aiutare il popolo centroafricano a superare questo momento di crisi. Parlo delle organizzazioni non governative, parlo anche dei vari organismi della comunità internazionale, un incoraggiamento ad andare avanti in questa opera di supporto, di sostegno, nonostante tutte le difficoltà che possono e gli ostacoli che possono incontrare. In Uganda Papa Francesco onorerà i santi martiri ugandesi canonizzati 50 anni fa, a più di un secolo dalla morte. La loro testimonianza di fede parla ancora all'Africa e al mondo di oggi? Certamente parla ancora e con voce eloquente. Basterebbe pensare a quanto già Paolo VI disse nel momento della loro canonizzazione, mettendo proprio in risalto la loro fede, ecco, la qualità della loro fede e le conseguenze della loro fede. Bene, credo che parla nel senso che, ecco, ci dice come, ecco, per i valori profondi, che poi per noi cristiani sono una persona Gesù Cristo, si può essere disposti anche a dare la vita, ecco, non soltanto per le cose effimere o per la ricerca di beni passeggeri, ecco, di benessere soltanto materiale. Ci sono alcune realtà per le quali si deve essere disposti a dare la vita e nello stesso tempo ci dicono anche che la fede può diventare veramente il seme, il germe, l'inizio di un umanesimo più pieno e più integrale, che quindi la fede diventa anche una motivazione in più e una spinta in più, ecco, per costruire una società fraterna, una società pacifica, una società solidale e per cercare davvero il bene di tutti.